L'efficacia dei vaccini anti-covid a mRNA nella popolazione generale non registra riduzioni a sette mesi di distanza dalla somministrazione ma rimane pari all'89%. Anche contro i covid e dicessi la protezione resta elevata a sei mesi dalla seconda dose, secondo quanto riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, lieve diminuzione invece nella protezione dall'infezione in alcuni gruppi specifici come negli immunocompromessi o con patologie. Entro il 2050 5 miliardi di persone potrebbero avere un accesso inadeguato all'acqua, un numero in netta crescita rispetto al 2018 quando erano 3,6 miliardi. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, agenzia dell'ONU, nel rapporto sullo stato della crisi idrica nel mondo. Nel report si legge, nonostante alcuni progressi, 107 paesi restano lontani dall'obiettivo di gestire in modo sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030. I dati dicono che l'accumulo di acqua terrestre è diminuito a una velocità di un centimetro all'anno e solo lo 0,5% dell'acqua sulla terra è utilizzabile e disponibile. Secondo un'analisi della Col di Retti basata sul rapporto ISTAT sui conti economici trimestrali nel secondo trimestre del 2021, l'agricoltura è il settore che ha registrato la maggior crescita per quanto riguarda le posizioni lavorative con un più 10,4%, un risultato nettamente superiore a quello degli altri settori che in media, nell'ultimo anno, hanno registrato una crescita dell'1,9%. Dati che confermano la vitalità del settore, che con quasi 1,8 milioni di posizioni lavorative, è stato in grado di offrire anche durante la pandemia Covid opportunità occupazionali con una domanda di lavoro ora sostenuta con l'arrivo dell'autunno per l'entrata a pieno regime della raccolta di mele, pere e della vendemmia, mentre sta per avvicinarsi quella delle olive. Grazie a tutti. Grazie a tutti.